La legge li chiama prodotti abortivi, a Cassola sono i bambini mai nati. Il Comune Vicentino, su delibera del 27 settembre, ha deciso di istituire un apposito registro per tutti quei bambini che non sono potuti venire alla luce entro le 27 settimane di gestazione. Un atto di grande umanità e sensibilità da parte dell'amministrazione di Cassola, guidata dalla neomamma Silvia Pasinato. Un'amministrazione comunale deve anche metterci del suo e quindi abbiamo solito anche smuovere le coscienze e noi siamo cresciuti in un ambiente di tradizione cristiana dove ci sono stati trasmessi alcuni valori importanti di tipo etico-morale. Il Comune ha anche deciso di destinare uno spazio cimiteriale a Cassola e a San Zeno riservato proprio a questi bambini mai nati. Sarà lo stesso Comune a farsi carico delle spese di sepoltura. Noi stiamo realizzando fisicamente le aree cimiteriali dove poter appunto seppellire i bambini mai nati e non appena pronte ho invitato il Movimento per la Vita di Bassano del Grappa a sviluppare una iscrizione, una frase simbolica che appunto celebra in questo momento importante. Nel frattempo l'amministrazione di Cassola ha pensato di estendere l'iniziativa anche agli altri Comuni Limitrofi.